Ben trovati ancora insieme a Polis dentro la notizia per commentare gli articoli del giornale e rilanciare i servizi dei nostri telegiornali. Con noi Paolo Sanzaro, segretario generale provinciale della CISL Siracusa-Ragusa. Un'interprovincialità che ci lancia subito sui temi dello sviluppo in questo sud-est della Sicilia tanto martoriato. Partendo da un presupposto, quello che i rapporti con la regione in questo momento non sono del tutto idilliaci. La crisi travolge tutto e tutti e la regione un po' sta arrancando nell'indicare le soluzioni. L'arrivo del presidente Crocetta a Siracusa ha dato delle indicazioni anche di malessere forte sociale che abbiamo visto nelle contestazioni che vi abbiamo poi proposto in molti delle giornali e in molti approfondimenti. Ma io partirei proprio da questo per sentire il segretario della CISL. Ecco, occorre aggiustare qualcosa nel volano regionale? Credo che la visita del presidente Crocetta a Siracusa, sebbene auspicata e voluta, è chiaro che si inseriva in un contesto che diventa giorno dopo giorno sempre più difficile e complicato perché ormai la disperazione, la crisi è non più strisciante, ormai emergente. Sotto gli occhi di tutti e attraversa tutti i settori produttivi. E quindi non ci si poteva che aspettare questa rabbia composta, ma una rabbia da parte dei tanti lavoratori dei diversi settori, dalla formazione professionale ai precari del pubblico impiego e via dicendo, insomma, che hanno manifestato l'impossibilità di sopravvivere se non percepiscono lo stipendio da 8-10 mesi, da 11 mesi, è un dramma che si aggiunge ai tanti altri drammi, a quelli dei lavoratori della forestale, a quelli del settore edile, che ovviamente il presidente Crocetta deve raccogliere. Questo tour che sta facendo, mi risulta che oggi pomeriggio è anche a Ragusa, credo che non deve essere un tour, come dire, né come avviene per i cantanti che girano un po' in tutte le grandi città, né un tour elettorale, deve essere un tour per dare risposte concrete, poche, ma risposte concrete ad un territorio che da troppo tempo ormai è stato abbandonato e lasciato a se stesso. Non fosse altro perché lo stesso presidente ha più volte annunciato di fare riforme, di non lasciare indietro nessuno, di dare risposte agli annunci, ora debbono seguire necessariamente i fatti. Io pregherei la regia, prima di andare avanti, di farci sentire le interviste realizzate da noi in via Minerva in attesa del presidente Crocetta, mentre i lavoratori si schieravano per la grande contestazione che poi è avvenuta appena è arrivato. Se la regia è pronta le manderei in onda. E alle nostre spalle adesso gli striscioni dei lavoratori della conoscenza per la formazione professionale, un settore che sta vivendo molto più di altri la crisi, una rappresentanza dei sindacati di base. Mariella D'Angelo. Allora, noi siamo qua ancora una volta, visto che venerdì siamo stati a Palermo e non abbiamo avuto l'onore di essere ricevuto da nessuna delle istituzioni in quanto ci hanno mandato il delegato. Siamo qua per dire veramente al nostro carissimo governatore, dopo una miriade di appelli, cosa ne vuole fare di noi, soprattutto delle nostre famiglie, soprattutto della nostra dignità, perché nessuno ci sa dare delle risposte. Rimbalziamo da un ufficio all'altro, da un dirigente all'altro, ma risposte concrete non ne abbiamo. Venerdì siamo stati a Palermo, ci hanno dato delle garanzie che ancora una volta rimangono delle garanzie solo verbali, nulla di scritto. E quindi noi siamo qua, lo rincorriamo, ci auguriamo che lui oggi a questo spettacolo di piazza ci dia qualche risposta. Da quanti mesi senza stipendi? Da almeno 15 mesi, senza parlare poi della cassa integrazione che praticamente non si riesce a capire chi ce la deve pagare, perché la regione ci dice che ha versato quanto dovuto all'Inps, cassa integrazione 2012, ma tutt'oggi abbiamo avuto pagati solo due mesi a distanza di 14 mesi, per gli altri mesi non si capisce bene perché ci sarà una rotazione. Cosa significa rotazione? Nessuno ci saprà dire e finora ci ha detto cosa varrà a dire se due mesi li prendo io o due mesi la collega. Sa di fatto che siamo famiglie in ginocchio, dignità perse, genitori e mamme di famiglia che non abbiamo più dove aggrapparci. Per gli sportelli multifunzionali oggi in piazza anche i lavoratori che rivendicano certezze. Ne parliamo con Rosalba Celestri che anche voi avete un'interlocuzione forte che volete proporre a Crocetti. Noi siamo operatori degli sportelli multifunzionali. Gli sportelli multifunzionali, come è noto, operano all'interno dei centri dell'impiego e assolvono a funzioni molto importanti nei confronti degli inoccupati e dei disoccupati. A funzioni di accoglienza, di informazione orientativa, di consulenza. Ebbene, noi eravamo come gli altri aspetti della formazione professionale garantiti dalla legge 24. Siamo passati per volontà superiore al finanziamento del Fondo Sociale Europeo che ci vede occupati fino al 30 settembre con un progetto scaduto il quale non abbiamo futuro. Il Presidente Crocetta conosce il nostro problema, glielo l'abbiamo rappresentato numerose volte. Abbiamo fidato e confidato in lui. Purtroppo ad oggi non vediamo niente. Rischiamo addirittura di vedere vanificati i finanziamenti del piano barca che se non vengono impiegati immediatamente saranno restituiti a Bruxelles. Però realizziamo tutto quello che vedete. 10.000 lavoratori di cui 1.800 della formazione professionale appartengono agli sportelli multifunzionali. Questa è macelleria sociale. Evitatela. Il nostro servizio non è importante. È essenziale all'interno del centro di impiego. Perché nessuno assolve le politiche attive del lavoro come noi. Ecco, ha sentito quanta rabbia, quanta voglia di rivalsa. Soprattutto quanta esigenza di risposte. Mi sembra una rabbia legittima non solo per il lavoro che fanno all'interno degli uffici ma anche perché chi lavora è giusto che abbia una legittima e poi una retribuzione corrispondente. Ormai, come dire, non c'è più tempo da aspettare. Ieri c'è stata una grande manifestazione a Palermo. Hanno partecipato più di 3.000 operatori proprio della formazione professionale. Questo è un grido di rabbia, di dolore che viene lanciato al presidente Crocetta perché accolga soprattutto anche quella che era la richiesta fatta da CGL Cisle Will di una task force in grado di rimettere in moto la macchina. Per fare questo bisogna cooperare, bisogna lavorare in sinergia e insieme e ascoltare i consigli e i suggerimenti che provengono anche dal mondo sindacale e dalla Cisle in particolare che ha idee ed è disponibile ad assumersi anche responsabilità. Il mercato va riformato, va posta all'attenzione anche a quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro, ma certamente vi sono lavoratori, vi sono lavoratrici, vi sono famiglie che non possono essere assolutamente abbandonate. Ma gli sbocchi ci sono? Ci sono i margini per una trattativa in un vortice per di soldi come è stato quello della formazione per troppi anni? Io credo che c'è sempre un margine di trattativa. Si è partito da un attacco feroce alla formazione professionale che certamente è un settore che va riformato, va attenzionato e va migliorato, ha una timida attenzione rispetto a questo settore, rispetto ai consigli che provengono dal mondo sindacale e perché questa riforma avvenga tenendo conto delle esigenze del mercato come diceva e tenendo conto dei lavoratori. Non si può dall'oggi al domani come dire tirare una linea, una specie di linea gotica e dice chi è al di sopra va bene, chi è al di sotto rimane fuori. È chiaro che bisogna sedersi dentro un progetto con la responsabilità che appartiene alle organizzazioni sindacali e credo che le manifestazioni, ultima quello di ieri ma anche quella che abbiamo fatto più volte in prefettura, a Siracusa, della formazione di tanti altri settori, credo che è la prova provata di un malessere che non può più essere non ascoltato. E ancora, andando oltre, entriamo in pieno clima elettorale per le amministrative, la presentazione delle liste, le migliaia di candidati in campo, 500 donne che sono la grande novità di queste amministrative ma soprattutto tanti candidati a sindaco con una confusione che è totale. Ma in democrazia è lecito fare questo, il problema non è tanto candidarsi, poi alla fine verrà eletto una persona e noi ci auguriamo che vinca il candidato che, come giusto che sia, viene scelto dalla maggioranza dei cittadini ma che soprattutto abbia la capacità, la forza di governare e di un progetto credibile per il comune di Siracusa. Ormai da troppi anni ci sono situazioni difficili, complicate, è vero che i comuni sono al dissesto e che non riescono più a reggere il peso dei tagli ma è anche vero che dentro la pubblica amministrazione vi sono anche sprechi, cattivo utilizzo delle risorse umane e finanziarie, quindi vanno assolutamente tagliati invece l'utilizzo delle consulenze esterne, va utilizzato e reso funzionale il personale che spesso viene accantonato e che hanno qualifiche importanti all'interno dell'amministrazione, questo può servire a rimettere in modo un processo virtuoso per dare fondamentalmente poi servizi efficienti ed efficaci ai cittadini che è quello che vogliono, servizi che vanno dai servizi comunali ai servizi pubblici in grado di soddisfare quelle aspettative. Ecco, il cittadino ha bisogno di questo, di un progetto credibile per Siracusa, il candidato sindaco che si presenta deve dire chiaramente quello che vuole fare ma soprattutto non ci può essere ancora una volta lo slogan e gli annunci prima della campagna elettorale come abbiamo assistito per altre campagne elettorali e poi all'indomani come dire, l'elenco delle difficoltà e delle impossibilità a risolvere le questioni, li sappiamo anche oggi, poniamo in essere tutte quelle condizioni per risolvere i pochi problemi però dare una prospettiva diversa ai cittadini siracusani. Ma nel programma di un sindaco ideale quali devono essere le due priorità? Ma secondo me, come dire, lo dicevo poco fa, una riorganizzazione, una maggiore efficienza dei servizi offerti ai cittadini, tagli della spesa improduttiva che non serve a nulla e serve soltanto spesso purtroppo alla sola politica per auto, come dire, celebrarsi e per fare clientelismo e quindi questo credo che sia un segnale forte che tra l'altro è uscito anche nelle ultime elezioni un bisogno di cambiamento, cioè per dirla con chi è, come dire, più importante di noi lo ha detto anche, come dire, Papa Francesco, la politica e il potere si faccia servizio servizio per la gente che si impegna nelle campagne elettorali, i 500 e più candidati che si sono impegnati sappiano che chi va a ricoprire quel posto non è per avere maggiore potere per se stesso ma è per servire la collettività e la comunità. A proposito di servizio, di politiche sociali, di intervento sul territorio e di esasperazione parliamo, la solidarietà è stata ovviamente a 360 gradi, l'aggressione alla funzionaria del comune di Siracusa alla dottoressa Garufi. Ecco, voi come sindacati come valutate l'evento? È molto preoccupante. Noi l'abbiamo valutato e l'abbiamo anche sostenuto con una piccola ma significativa manifestazione unitaria di Cigelle e Cisleville proprio sotto la prefettura per manifestare alla dottoressa Garufi ma a tutti, in senso, come dire, più largo, a tutti i dipendenti, ai funzionari pubblici che svolgono ruoli delicati purtroppo e questo era il compito che faceva la dottoressa Garufi un ruolo delicato, complicato, difficile in un momento come questo in cui aumentano notevolmente le richieste per l'esenzione ticket perché la gente non ha lavoro, non ha occupazione, è disperata, non ha cosa mangiare, non ha cosa dare ai figli ma è una solidarietà estesa a tutti quelli che lavorano in un contesto socio-economico come era quello in cui lavorava e lavora la dottoressa Garufi e tante altre figure professionali. Le motivazioni sull'emergenza che ha scatenato il tutto ancora è una nebulosa, potrebbe anche essere l'ufficio casa, ecco ci sono tante ipotesi. Ma certamente diciamo che è ascrivibile all'interno del cosiddetto disagio sociale che spesso purtroppo non dovrebbe essere sfocia in atti di questo tipo, a volte rivolti contro se stesso come è avvenuto per quel lavoratore disperato di Vittoria che perde la casa e che si dà fuoco perché insomma per 10.000 euro perdere nel meridione ma in Italia in genere la casa è il bene forse più prezioso ed era l'unica cosa che poteva offrire anche ai suoi figli non avendo più neanche il lavoro oppure in questo caso come dire questa violenza che è assolutamente condannabile da parte di chi si rivolge contro un funzionario che svolge purtroppo ai noi il proprio lavoro. Ecco lì bisogna incidere, fare in modo che ci sia una maggiore assistenza, vicinanza ai cittadini deboli che soffrono ma soprattutto anche un controllo del territorio e delle forze di polizia in grado di controllare e di governare questo. E poi nell'ambito della corona che ancora uccide i datori di lavoro mi trattavano male, in momenti di esasperate, questo è il titolo basso della Gazzetta del Sud ma è un po' su tutti i giornali il fatto accaduto nel milanese. Ecco è un'esasperazione che sta portando davvero ad un'aspirata di violenza senza precedenti. Mi verrebbe da dire paradossalmente in maniera purtroppo negativa che questi elementi sono forse gli unici elementi oggi che legano il nord e il sud e per il resto c'è un distacco e una differenza notevole ma sta a dimostrare che anche al nord c'è una crisi e che viene vista in questo modo. Noi purtroppo la viviamo ormai da diversi anni, si dice ci sono purtroppo prospettive di un altro anno o forse due di recessione, di calo dei consumi, ecco la visita di Crocetta così come la presenza degli assessori, così come la presenza nel governo nazionale di un nostro concittadino, conterraneo, il professore Trigilia, dico credo che debba servire a questo, a rimettere in moto per Siracusa in particolare, a rimettere in moto il processo economico e quindi sostanzialmente se c'è un calo dei consumi bisogna dare alle famiglie risorse economiche in grado di poter spendere ma non per le cose inutili o superflue ma per le cose essenziali perché oggi non si spende più neanche per le cose essenziali e quindi la recessione e il calo dei consumi porta ovviamente ad imbrigliare l'economia e quindi una situazione disastrosa assolutamente sotto tutti i punti di vista. Rimettere in moto il processo economico, ecco un po' la parola d'ordine in tutti i settori dal turismo alla valorizzazione dei beni culturali al rilancio del polo petrochimico, ecco vorremmo un attimo fare il punto su due elementi, gli investimenti lucoili che sono stati presentati al Presidente della Regione, le fermate industriali e quindi le possibilità delle imprese anche se poco per questa volta di intervenire e poi la prospettiva delle bonifiche. Noi l'abbiamo detto più volte ed è quello che abbiamo chiesto anche attraverso una nota poi inviata alla stampa al Presidente Crocetta per cui abbiamo detto che eravamo insoddisfatti rispetto agli impegni assunti o alle cose che si possono concretizzare nella nostra provincia. Ve ne sono tanti, come si diceva, appunto le bonifiche ma anche vorremmo conoscere meglio in dettaglio gli incontri, non dico clandestini ma palermitani tra Lucoil e il Presidente Crocetta e vorremmo conoscere qual è il piano industriale di rilancio di questa zona. Noi abbiamo più volte chiesto rispetto anche all'indiscrezione di stampa, vorremmo sapere tanto per dirne una se quell'indiscrezione di stampa sul rigassificatore è ancora qualcosa su cui ci si può muovere oppure no e se questa zona industriale rappresenta un valore aggiunto e un elemento strategico per investimenti, per liberare risorse e per renderla produttiva e farla diventare un punto di riferimento per la Sicilia ma per l'intero Paese. E proprio per questo noi abbiamo, accanto alla zona industriale, se mi posso permettere, abbiamo lanciato anche come Cigelle, Cisleville e soprattutto i settori edili una grande manifestazione proprio a Lentini sabato, proprio perché riteniamo che un altro settore, quello dell'edilizia, che è fermo, vuoi per il patto di stabilità dei comuni, vuoi perché non hanno risorse, vuoi perché si è bloccata anche l'edilizia privata, è chiaro che è un elemento che può sprigionare risorse, economia e ricreare occupazioni, è un settore strategico fondamentale alla pari del settore industriale. Edili e metalmeccanici sono stati per anni il fiore all'occhiello della provincia di Siracusa, maestranze che chiamavano in tutto il mondo per la grande professionalità, poi il crollo e il rischio dell'azzeramento totale. Gli edili e i metalmeccanici hanno espresso ed esprimono ancora grandi professionalità che ci hanno invidiato un po' ovunque, potrei dire, nel mondo. Purtroppo oggi la crisi che vive il settore industriale, la zona industriale nella nostra provincia penalizza questi due settori in particolare, ma non solo, anche i diretti, notizie di questi giorni, ma sono i settori che hanno visto espellere dal mercato del lavoro centinaia e migliaia di lavoratori che non hanno più possibilità occupazionale e che soprattutto si vedono ridotte anche gli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione indero che speriamo venga rifinanziata per certi versi, ma che è l'unica speranza, una boccata di ossigeno per chi perde il lavoro, ha una grande professionalità, ma non riesce a rimettersi nel circuito economico. Quindi lavorare di mobilitazione per tentare di dare la spallata alle crisi dove le banche devono finalmente fare la loro parte, ecco il sindacato è il sindacato dei lavoratori, ma anche il sindacato dei cittadini, quindi in qualche modo deve affrontare anche dal punto di vista delle dinamiche sociali, delle dinamiche economiche, quello che è il problema crisi. Da questo punto di vista le imprese sono davvero al collasso. Certo, le imprese sono al collasso, se sono al collasso le imprese noi ci preoccupiamo perché se non c'è impresa non c'è lavoro e quindi non ci sono lavoratori. Ecco perché abbiamo fatto più volte, l'abbiamo fatto un anno fa, a marzo dell'anno scorso, quella grande mobilitazione e alleanza tra istituzioni, organizzazioni sociali, il sindacato e imprese proprio per gridare la rabbia che c'era nel nostro territorio. Credo che questo sia fondamentale, riprendere questa alleanza sociale, come abbiamo fatto. Da questo punto di vista il sindacato si è ritrovato attorno ad un progetto comune, quello di difendere i lavoratori unitariamente e lo faremo perché così hanno deciso le segreterie regionali con una grande iniziativa regionale anche nei territori, ma in particolare il 6 di giugno a Palermo, una grande iniziativa di CGL Cisle Will per manifestare la rabbia per il profondo disagio sociale che vivono i lavoratori e poi si culminerà a livello nazionale, il tutto culminerà il 22 di giugno con una mobilitazione generale di CGL Cisle Will a cui parteciperemo. Quindi due momenti di sciopero generale o solo manifestazione? Due momenti di grande mobilitazione generale che daranno due segnali forti. Al governo regionale il profondo distacco tra un nord e un sud sempre più arretrato e più stanco che c'è e al governo nazionale di rimettere in moto tutte quelle agevolazioni alle famiglie, ai pensionati, ai lavoratori dipendenti in grado di dargli 10 euro in tasca per poterli spendere tranquillamente e rimettere in moto l'economia. Non si possono colpire le solite fasce deboli, le solite fasce che hanno un reddito quando ce l'hanno una piccola pensione e invece non colpire la grande evasione o i grandi patrimoni che spesso sfuggono purtroppo ai controlli. 6 e 22 giugno quindi la notizia, due grandi manifestazioni regionali e nazionali per combattere la crisi per tornare in piazza a mobilitarsi per una migliore qualità della vita. Grazie a Paolo Sanzaro, segretario generale della CISL Siracusa Ragusa, grazie anche a voi per averci seguito fin qui sempre su Focus, sempre sul canale 98 del Digitale Terrestre in tutta la Sicilia. Arrivederci. Grazie a tutti.